ti posso parlare un'omento padrone, ti ascolto, sto a capo che pensi sono tu? i sogni non esistono, tu sai e ci funzionano poche cose, le cose vengono amici, le cose vengono amici e poi più grossi è girando, che le già le già funzionano, non ti preoccupare, poi vengono lì da presto non capisci che è girando, è un po' magistrato non hai chiesto di me, non hai chiesto di me, non hai chiesto di te hai chiesto di me a toccare la patria c'è una storia mia, sai, se la roma venga non hai chiesto di nessuno, ma ci metto un'occhiata, non voglio cominciare padrone, ti ricordo quando ti ricetti che andavo a finire nessuno con il problema che andavo a finire anche di me che stai gennao? che stai padrone? pizzón Grazie.